Questa è la situazione all'indomani del vasto incendio che ha interessato via del cardinale a Paganica nella zona dietro il cimitero della popolosa frazione. La protezione civile è ancora impegnata, lo vediamo nelle immagini del nostro operatore Donatello Ricci, a spegnere gli ultimi focolai. Il grosso dell'incendio chiaramente è stato domato dai vigili del fuoco e da tante squadre che sono arrivate in supporto anche da Teramo ieri sera, però questa mattina c'è ancora un lavoro grande e incessante da fare. I danni sono stati tanti, del resto questa è una zona piena di campi, di allevamenti e ci sono tantissime piccole aziende agricole, i danni sono stati davvero importanti e questa mattina c'è un via vai anche di curiosi, di paesani ad offrire supporto e solidarietà alle persone che sono state coinvolte e danneggiate da questo incendio purtroppo di vaste dimensioni. Domenica di fuoco e nel vero senso della parola Paganica ieri, popolosa frazione alle porte dell'Aquila dove si è sviluppato un vasto incendio che in poco tempo ha distrutto mezzi agricoli, raccolti e degli animali da allevamento sono morti. I vigili del fuoco presenti in gran numero con i volontari hanno impedito che il danno potesse addirittura essere maggiore, l'incendio ha interessato la zona dietro al cimitero di Paganica e il rogo ha tenuto col fiato sospeso tutti i cittadini fino a ieri sera, sono stati loro i primi ad intervenire. Un elicottero ha effettuato diversi lanci nella giornata di ieri, si sta cercando di lavorare anche per capire l'origine del rogo, pare sia partito da alcune sterpaie. Nella notte l'area è stata presidiata, questa mattina la protezione civile era ancora lavoro per bonificare tutta l'area, l'odore si sentiva ancora molto forte in tutta la frazione. Un via vai di Pasani a portare solidarietà agli allevatori agricoltori coinvolti mentre si cerca di spegnere gli ultimi fuocolai che sono rimasti. La zona è molto ricca di stalle, i danni sono stati davvero ingenti.